Io volevo solo invitare il Consiglio a un'attenta riflessione perché da quanto è messo sul problema SICA, sono d'accordo sui certificati qualora loro dovessero averli, regole eccetera, però noi da sidernesi dobbiamo fare un'attenta riflessione a dove è ubicata questa fabbrica, cioè qualsiasi cosa può funzionare bene, ma la storia ci insegna che ci sono state problematiche dove le cose funzionavano bene e poi ci sono state dei disastri indifferenti, ma c'è quindi riflettere e pensare di trovare una soluzione affinché questa venga trasferita in un'area più idonea, perché io sono convinto che quella non è area idonea, ma è normale che in un'area dove risiede una fabbrica chimica attorno vengono costruite ancora oggi delle abitazioni, ci sono queste riflessioni che deve fare la politica sana, non solo il discorso dei certificati dei controlli dietro che ci stanno e sono d'accordo, ma il problema è che dobbiamo capire se quella è una zona idonea ad ospitare una qualsiasi fabbrica a maggioraggiare chimica. Grazie. Grazie.